Ciao amici, buongiorno, sono Lox, bentornati sui fatti di opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Parliamo questa mattina di pallacanestro, la gara 2 delle semifinali, la serie tra Milano e Sassari, che si è giocata ieri sera. Prima di entrare nel vivo, grazie per mettere un like al video se vi dovesse piacere, grazie per iscrivervi al canale e grazie infinite per il sostegno che date al mio canale. Gara 2 Milano-Sassari, sabato ero stato al forum a vedere la prima partita che mi aveva piuttosto deluso perché Sassari non era riuscito a opporre quella resistenza che mi aspetto in una serie che comunque è piuttosto chiusa, ma per quello che ha fatto la squadra di Bucchi fino adesso credo che possa darci comunque del divertimento. Gara 2 invece, che non ho visto dal vivo, è stata una partita diversa, nella partita nella quale Sassari ha giocato il tipo di pallacanestro che mi sarei aspettata, ha messo in difficoltà anche la squadra di Messina, alla fine però ovviamente i valori sono stati rispettati, Milano ha vinto per 91-82 e si porta 2-0 per la serie, ora si va a giocare a Sassari, credo che la squadra di Bucchi con questa intensità il colpo almeno di portare a casa un successo potrebbe riuscire a farlo. Come detto ieri Sassari ha giocato una partita intensa, sono tornati a giocare anche Krooslin e Logan che si erano dimenticati di giocare gara 1, Barnell invece anche stavolta ha giocato una prestazione meno positiva. Sassari ha avuto soprattutto una clamorosa fiammata in chiusura di secondo quarto con la quale ha allungato, Logan ha cominciato finalmente a fare canesso dopo diversi errori anche in questo inizio di gara 2 e la formazione di Bucchi è andata all'intervallo lungo in vantaggio di 8 punti sul 49-41. Milano è rientrata determinata, ha messo a posto la difesa, ha ritrovato molta più fluidità in attacco, ha trovato soprattutto il fatto che ha dei giocatori di talento assoluto che hanno fatto poi la differenza nel finale. Secondo tempo è finito 50-33 per Milano che quindi è tornato a segnare con ancora più regolarità come sta facendo in questi playoff dove oltre alla dimensione difensiva ha aggiunto anche una dimensione offensiva molto più preponderante rispetto a quello che aveva fatto durante la stagione regolare o in Eurolega soprattutto, mentre la difesa subisce forse più punti ma come intensità, quando c'è bisogno riesce a chiudersi e a mettere le mani addosso, a fare quello che deve fare per poter recuperare i palloni e mettere molto in difficoltà la squadra avversaria. Le percentuali di tiro sono molto simili, Milano ha vinto tirando col 53-2, il 36-3, il 91 della lunetta ha ritrovato una certa precisione della lunetta che è molto molto importante in partite soprattutto così strette e 39 rimbalzi a 35, 12 palle perse. Sassi era tirato col 50-2, il 35-3 e l'83 dalla lunetta, sbagliando solo tre comunque dire liberi. C'è stato un grande equilibrio, è stata una partita di playoff vera. In alcuni casi queste serie di playoff mi ricordano un po' quelle dei tempi della Montepaschi quando un avversario era talmente più forte che ti accontentavi anche solo che gli avversari rimanessero lì attaccati per avere una vaga partita. Qui in teoria Milano e Bologna sono squadre con budget così superiori rispetto agli avversari che in teoria dovrebbero spazzare via sempre senza nessun problema ogni tipo di avversaria. Per cui mi piace quando invece queste squadre costruite con meno o comunque di livello sicuramente inferiore riescono a tenerli vivo e a costringere le squadre più favorite a fare veramente fatica per vincere. Per cui complimenti a Sassari in questo caso. Decisivo MVP di giornata, le giocate del Ciaccio Rodriguez 19 punti, 7 su 9 al tiro, 5 assists, 23 di valutazione. Quando si è acceso lui sicuramente si è accesa tutta l'Olimpia e è stato il giocatore più importante della gara. Peraltro Ciaccio riesce sempre anche a mettere piuttosto in difficoltà al play avversario, riesce a difendere duro, insomma è un giocatore sempre fondamentale per questo livello di gioco. Molto bene anche stavolta Shields, 16 punti, meno preciso del solito, che di solito il suo regno stavolta ha fatto un po' di fatica, 5 rimbalzi, 17 di valutazione e poi il solito giocatore mister utilità di Milano, All, anche stavolta 17 punti, 4 su 9, 17 di valutazione, sono stati i giocatori più importanti. Stavolta rispetto a gara 1 Grant ha fatto più fatica e quindi gli ha preferito coach Messina Baldasso che ha giocato una buona gara, Grant 0 punti in 7 minuti, Baldasso 6 punti, 1 su 1 al tiro, poi preciso anche dalla lunetta, è una buonissima partita per lui. Prosegue l'inserimento di Melli, 8 punti, sempre mister utilità, da fastidio, rimbalzo, difende, cambia su tutti, è un giocatore veramente fondamentale, invece da Tommy stavolta ha avuto una giornata un po' difficile, 5 punti, 2 su 9 al tiro ha fatto meno bene rispetto a quella che era stata a gara 1. Da Sassari, ancora Benzius il migliore, 23 punti, 8 su 15, 9 rimbalzi, 29 di valutazione, tira con una facilità assoluta, la mette da tutte le parti, è un giocatore che però poi dopo anche dietro magari sa essere anche duro in difesa alle volte e poi soprattutto molto utile a rimbalzo. Logan come detto ha cominciato a giocare, soprattutto in chiusura di secondo quarto, ha fatto più fatica nel secondo tempo, 14 punti, 6 su 14, chi non riesce a entrare proprio nella serie? Barnell, 5 punti e una prestazione piuttosto in ombra anche in questa occasione. Gentile e Diop hanno dato il loro contributo, anche Diop sotto canestro sta facendo un buonissimo lavoro, si tuffa in continuazione, lotta sulle palle vaganti, sta facendo piuttosto bene. Robinson, 8 assist ma stavolta 2 su 9 al tiro, mentre invece in gara 1, ecco, Sassari per vincere ha bisogno di tutti i giocatori che siano sulla pagina giusta per provare a vincere la partita. Stavolta è un po' mancato Robinson, soprattutto appunto con questa brutta percentuale al tiro. Poi Bilan, 17 punti, 13 rimbalzi, un guerriero doppia-doppia, però 5 solo su 11 al tiro, una percentuale un po' meno buona del solito. Hanno arbitrato Paternico, Rossi e Borgioni, che mi hanno lasciato come una sensazione di essere stato un arbitraccio casalingo. Poi però, riandando a vedere nel dettaglio, Sassari ha avuto alcuni fischi contro, soprattutto tre falli in attacco consecutivi nel terzo quarto, quasi consecutivi nel terzo quarto, però se rivediamo le decisioni sono giuste. Alla fine l'unica cosa, forse c'è una rimessa laterale concessa a Milano nella quale sembrerebbe più un tocco di Melli rispetto anche a un tocco di Bilan, ma Borgioni non dà la mano che dovrebbe a Paternico e quindi in questo caso la decisione potrebbe non essere corretta, comunque non presa dall'arbitro giusto. Per il resto quindi la sensazione è stata quella. Poi anche se vediamo il numero dei falli, 44 totali, non c'è un così disequilibrio, quindi credo che sia stata più una sensazione che da realtà e l'arbitraggio nel complesso mi è sembrato discreto. Ho trovato Rossi meglio di Paternico, Paternico un paio di fischi non mi sono piaciuti, Rossi invece l'ho trovato più costante nel corso della partita, viceversa Borgioni non credo che sia il suo livello questo. Il problema del terzo arbitro emerge in questi play-off che da una parte sono comunque non impossibili da arbitrare perché appunto c'è troppa differenza tra una squadra e l'altra, però laddove abbiamo partite un po' più strette alle volte gli arbitraggi lasciano un po' non tutti gli arbitri, quantomeno se mi sembrano essere proprio in ogni momento all'altezza del compito. 6,5 a Paternico, 7 a Rossi e 5,5 a Borgioni la mia pagella. Serie sul 2-0, andiamo a Sassari come dicevamo, vediamo quello che la squadra di Bucchi, un nervoso Bucchi che ha salutato Messina di Corsa, ho letto anche che in conferenza stampa è stato molto veloce, probabilmente era un po' infastidito e credo che Sassari comunque le sue chance le abbia avute e che qualcosa di buono lo possa fare anche nella gara 3 e soprattutto che potrebbe essere anche l'ultima sul terreno abito. Fatemi sapere i vostri commenti, noi con la Paracrense ci vediamo stasera con gara 3 tra Tortona e Virtus. Grazie a tutti, un bacio e ciao da Vox.